Senatori presenti 307, senatori votanti 305, maggioranza 153, senatori favorevoli 235, senatori contrari 70, senatori estenuti 0, il Senato approva. Questa mattina ho parlato di responsabilità da parte di tutti e penso che si sia dimostrata comunque questa responsabilità su cui noi crediamo tanto anche per far andare avanti il Paese, per farlo uscire dalla crisi. E' un passo avanti, un passo positivo e speriamo che possa dare dei risultati positivi perché noi ci crediamo tutti come governo. E crede che sarà solida? Penso proprio di sì, perché da questo momento in poi chi prende parte a questo cammino, a questo percorso, deve comunque dimostrare di credere in quello che stiamo facendo. Grazie. Presidente, 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 Presidente. Grazie.